Finalmente la neve è tornata a imbiancare le piste da sci, dando ufficialmente l'avvio alla stagione del turismo invernale nelle principali località sciistiche abruzzesi. E così dopo il flop delle festività natalizie per l'assenza di neve, ora i gestori contano di recuperare almeno una parte di quanto fin qui andato perduto. Con la telecamera di Diego Martelli siamo venuti sulla maielletta per vedere qual è la situazione e per ascoltare direttamente dai gestori quali sono le aspettative per questa stagione invernale partita in ritardo. Sta andando già abbastanza bene perché noi abbiamo inaugurato la stagione purtroppo solo ieri per via della mancanza di neve e devo dire che già ieri, nonostante il tempo non propriamente favorevole, c'è stata abbastanza affluenza. Da oggi finalmente abbiamo iniziato i lavori con i gruppi scuola che porteremo avanti fino al mercoledì santo, quindi le aspettative sono buone, speriamo che adesso il tempo ci aiuti. Arrivata la neve speriamo che resti anche un po' di sole. E' tornato finalmente l'ottimismo perché insomma c'erano state anche tante preoccupazioni per il fatto che mancando la neve gli impianti erano chiusi e quindi si erano generati tutta una serie di problemi anche legati proprio al fronte economico del comprensorio. Certamente, l'ottimismo ci è tornato e ovviamente è stata veramente una stagione del tutto anomala perché magari noi che non abbiamo ancora il nevamento programmato, è successo in altri anni di avere il Natale senza neve, però è stata una situazione generica per tutto l'Abruzzo per cui è stata un'anomalia. Ottimismo sì, tanto speranza come dicevo prima nel bel tempo che ci porti avanti e ci faccia lavorare e soprattutto oltre che lavorare che l'appassionato della montagna possa raggiungerci e godere di questa bellezza. Qualche problema con relativa polemica è stato causato dalla viabilità per la chiusura del versante pescarese della strada che porta alla Maielletta, parliamo della strada statale 614, nel territorio di competenza del comune di Letto Manopello, cosa che ha obbligato molti avventori a raggiungere Passo Lanciano facendo il giro dal versante della provincia di Chieti nel comune di Pretoro. Le aspettative sicuramente le abbiamo perché con la neve chiaramente ritorniamo nella normalità di quello che è il periodo della stagione invernale, considerando che praticamente noi dal 6-7 di dicembre fino ad oggi la neve non l'abbiamo mai più vista perché in realtà è tornata l'estate più che la stagione autunnale o invernale e quindi adesso veramente abbiamo una situazione del tutto rientrata nella normalità. Ora il problema è un altro, prima non lavoravamo perché non c'era neve, adesso rischiamo di non lavorare per le intelligenze umane che abbiamo purtroppo nel territorio. Diciamo che sabato scorso la chiusura è stata totale per tutto il territorio, però che sabato scorso ci sia stata una chiusura totale sul territorio con una nevicata grossa in atto può anche passare perché comunque ha creato un'agevolazione nella sistemazione regolare della strada. Ora però sentire che in funzione di questa chiusura ci sta un discorso di annesso problema di valanghe qui sulla maia fa letteralmente ridere.